ragazzi qualche giorno fa è uscita la patch 6.66 di doom no? non a caso numero 666 il fatto è che vabbè non perto il mio account steam c'erano 35 gb di patch poi vado a scoprire vado a vedere cioè che in questa patch sono presenti anche dlc della parte multiplayer di 10 a pagamento dati così quindi a gratis il fatto è che si è preso season pass se la prende nel e non so cosa gli sia balenato in testa a bethesda id software fare una roba del genere uno vabbè per me che non avevo preso dlc a pagamento mi sta anche bene ma gli altri gli altri c'è ci avranno un rimborso non credo non credo perché figurati è ma è pagato un po' di tempo si può rimborsare e bravi sono buono anch'io ma voi cosa vi è successo una cosa del genere o no avete presi prima di decidere del season pass fatemi sapere qui sotto nei commenti ok ciao